In questa puntata maggioranza e opposizione insieme per la riforma dell'emergenza urgenza Pesca misure per prevenire il rischio di folgorazione Le ali del Pegaso allo studente Alessandro Dioni Consegnata la targa al gruppo sportivo Avanguardia Approvata all'unanimità dopo un efficace lavoro di sintesi in Commissione Sanità tra maggioranza e opposizione la proposta di risoluzione che si occupa dell'attuazione della riforma del sistema regionale di emergenza territoriale con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato Sono soddisfatto intanto perché siamo partiti da posizioni differenti da posizioni espresse in mozione dell'opposizione però poi quando siamo andati a fare un lavoro di analisi vera del problema e quindi di quelli che erano i bisogni dei cittadini e in modalità attraverso quale era possibile dare risposta si è trovato una sintesi e ringrazio sia consiglieri di maggioranza che d'opposizione che hanno fatto un lavoro importante anche lungo attraverso diverse audizioni ma che ci ha portato a evidenziare quelli che sono i nuclei di alcuni problemi che riguardano i cittadini e sui quali ci siamo trovati d'accordo sull'individuare gli indirizzi da dare alla giunta ora aspetta la giunta ovviamente come ente, come organismo che governa il settore, di dare attuazione agli indirizzi chiari e precisi e unanimi, non succede spesso, che il Consiglio regionale ha dato Allora, siamo soddisfatti perché all'inizio del 2023 avevamo presentato una mozione proprio per mettere diciamo attenzione sullo stato di crisi in cui verte il settore dell'emergenza urgenza avevamo appunto chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra regione e la nostra mozione è stata spostata in commissione a quel punto abbiamo chiesto di audire tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della regione toscana e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti e la commissione con il presidente sostegni che ringrazio ha lavorato a una proposta di risoluzione che è stata approvata sia in commissione che oggi in consiglio regionale quindi siamo soddisfatti e ci auguriamo che adesso l'assessorato competente porti a compimento quelle che sono appunto le richieste della Pris Beh sì, direi che tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti perché sono stati accolti dei nostri emendamenti in commissione e quindi è stato fatto un lavoro collegiale questo lavoro è stato, hanno partecipato tutti i gruppi e quindi credo che un'animità sia la giusta conclusione Diciamo che è alla luce del volontariato questo è importante perché la sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti questi gridi di allarme devono essere recepiti credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto tanto è vero che le audizioni eseguite in commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste Numerosi consiglieri del PD primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli hanno presentato una mozione in merito all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di folgorazione dei pescatori in prossimità degli impianti elettrici La mozione che abbiamo presentato come lei diceva ha preso spunto proprio da questo fatto tragico accaduto qualche settimana fa nel torrente Alchiano nel comune di Bibbiena che è costata la vita purtroppo ad un giovane di 20 anni e non è neanche la prima volta che accade un fatto così tragico quindi prendendo spunto da questo fatto tragico ed esprimendo la nostra vicinanza alla famiglia noi dobbiamo attivarci perché questi fatti possibilmente non accadono più Cosa occorre fare allora? occorre sicuramente mettere in campo tutte quelle misure che servono per cercare di eliminare la vicinanza tra queste canne al carbonio che vengono utilizzate perché sono leggere hanno grande resistenza ma anche hanno una grande conduttività questo ragazzo forse neanche ha toccato la canna che aveva a mano con i fili della corrente elettrica che attraversa il torrente ma forse si è addirittura creato quel fenomeno cosiddetto dell'arco elettrico che con una vicinanza ha provocato la folgurazione allora chiediamo che si intervenga presso il gestore dell'infrastruttura elettrica affinché vengano messe delle protezioni vengano quantomeno messe tutte le indicazioni di attenzionamento perché non ci si avvicini a pescare in questi luoghi fino anche a vietare la pesca nelle more della messa in sicurezza tenendo le distanze di sicurezza proprio per evitare questi fatti tutto questo magari accompagnato da una promozione di informazione di sensibilizzazione da portare avanti anche con le associazioni dei pescatori che ovviamente da questo punto di vista sono molto disponibili Crediamo proprio di sì perché tutto quello che viene fatto in direzione di una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro ma anche in genere sulle attività come le attività sportive troverà sempre il nostro appoggio e la nostra considerazione positiva mi chiedo però perché vi sia ancora una scarsa campagna di sensibilizzazione a riguardo non si può morire così andando a pesca rimanendo folgorati semplicemente perché utilizzando una canna in carbonio mi sembra veramente inammissibile dovremmo investire pesantemente per la sicurezza quindi al di là delle mozioni di atti di indirizzo cui abbiamo dato il nostro favorevole voto dobbiamo metterci i soldi per aumentare la sicurezza i cittadini devono vivere sicuri la mia assoluta vicinanza ancora una volta alla famiglia delle giovani Gabriele Dalla festa alla tragedia e poi fino al miracolo Alessandro Dioni, 16 anni, è al campo estivo della parrocchia di San Marco ad Arezzo quando vede un uomo che si è accasciato a terra e lotta per respirare mentre attorno qualcuno grida sta morendo, sta morendo e si sparge il panico lui si avvicina, gli alza la maglietta e ha la conferma che il 52enne è in arresto cardiaco allora chiede se c'è un defibrillatore il parroco gli indica il portone esterno della chiesa Alessandro corre, sgancia la valigetta d'emergenza e comincia la manovra per tre volte il cuore dell'uomo è ripartito e si è nuovamente fermato ma Alessandro ha continuato finché non l'ha salvato ed ora sta bene il ragazzo è stato premiato con le ali del Pegaso ho imparato a scuola grazie al professor Gallastroni che oggi è di là insieme a me e a scuola infatti abbiamo un defibrillatore scolastico appunto un defibrillatore che è uguale a quello che dà la scossa ma poi non dà la scossa insomma e appunto grazie alle lezioni che abbiamo fatto a scuola due lezioni sono riuscito a mettere in pratica quello che avevo già visto e fatto sul malichino i momenti più difficili sono soprattutto quando vedi il bottone verde il defibrillatore ti dice shock consigliato e è il momento di cliccare e vedi la persona appunto che pervasa dalla scossa elettrica si praticamente si stacca da terra e vedi questa immagine che non è proprio una cosa felicissima e poi anche il momento in cui siamo accorti che non c'era battito e tocchi il corpo e cerchi le vene ma non c'è pulsazione è un progetto è un progetto che noi facciamo dalla prima superiore lo portiamo fino alla quinta superiore è un progetto fra 118 fra il provveditorato agli studi di Arezzo nella persona del dottor Curtolo io appunto con Alessandro con questa classe ho iniziato dalla prima abbiamo fatto diverse lezioni e chiaramente guardiamo anche la casistica e appunto utilizziamo un defibrillatore didattico utilizziamo il manichino per il massaggio cardiaco in modo che la procedura del BLSD che è una procedura è un protocollo internazionale sia ben chiara l'obiettivo è chiaramente istruire più persone possibili perché? Perché l'abbiamo già capito se abbiamo vicino uno che può fare ciò è comunque una garanzia, è una sicurezza Questo è un premio importante l'abbiamo voluto consegnare ad un giovane studente Alessandro Dioni che qualche mese fa a luglio ha salvato con un gesto importante il babbo di un suo amico che ha avuto purtroppo un arresto cardiaco e abbiamo voluto mandare un messaggio con questo premio un messaggio che non bisogna voltarsi dall'altra parte che bisogna mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare le vite umane questo è quello che ha fatto Alessandro un defibrillatore la possibilità di saperlo usare quindi la formazione anche questa è molto importante che ha permesso di salvare una vita umana allora noi bisogna costruire tutti insieme le condizioni perché oggi e ancora oggi i defibrillatori non ci sono in tutti i nostri territori perché siano uno strumento che salva la vita e soprattutto costruire le condizioni per formare più ragazze e più ragazzi a essere consapevoli e saper utilizzare il defibrillatore come strumento per salvare le vite umane consegnato a una targa il presidente Renzo Corsini per i 70 anni dalla fondazione del gruppo sportivo Avanguardia 1953 è un significato importante abbiamo deciso di dare voce a chi ha meno voce ma riesce ad impegnarsi nello sport nel sociale e riesce a raccontare una storia di successo 70 anni della GS Avanguardia un lavoro importante portato avanti da Renzo Corsini un lavoro per integrare per inserire tanti ragazzi nella pratica sportiva nel calcio per dare a tutti le stesse opportunità e con questo riconoscimento è un modo per dire grazie a chi negli anni in maniera volontaria ha portato avanti tutto questo e per mandare un messaggio a tanti altri che questa è una strada bella, positiva, importante di integrazione e di sociale insieme allo sport Le caratteristiche è volontarismo da parte di chi fa i preparatori e i ragazzi non pagano niente quindi è un'attività gratuita verso i bambini il che permette alle fasce più umili e più povere della città di poter fare sport perché non tutti i ragazzi oggi possono fare sport se non hanno risorse economiche che non gli permettono noi cerchiamo di garantire questo diritto e questo bisogno finora ce l'abbiamo fatta non a me ma a quel gruppo di centinaia di volontari che in questi 70 anni si sono avvicendati per raggiungere questo obiettivo di favorire la crescita sana dei ragazzi ce n'è tanto bisogno il riconoscimento meritatissimo perché questa società da veramente da 70 anni ha accolto nelle proprie file praticamente in maniera del tutto gratuita tutti i bambini che volevano giocare e hanno fatto del gioco del calcio quello che dovrebbe essere anche nelle dovrebbe essere semplice è un vero gioco cioè i bambini giocano non hanno pressione crescono lì infatti sono cresciuti anche dei giocatori poi si sono affermati sia anche a livello professionistico quindi un ambiente direi sano un ambiente sano che ha visto come protagonista assoluto anche se lui non vuole mai ricordarlo il Renzo Corsini presidente storico della società che ha veramente speso tutto il suo tempo nell'attenzione ai ragazzi nell'attenzione ai ragazzi e alla loro formazione e credo che questo sia veramente un riconoscimento che già lui aveva avuto in passato dalla federazione ma un riconoscimento che la regione dà in questo senso è sicuramente un aspetto importante anche per le altre per le altre società l'avanguardia merita questo riconoscimento del consiglio non solo per i tanti anni di presenza sul territorio ma per il presidio sociale che ancora oggi rappresenta una formula di calcio libero aperto di sport dove le differenze si annullano dove i ragazzi stanno a contatto gli uni con gli altri e oggi credo che sia un messaggio fortissimo da portare avanti fra l'altro nel nome di un presidente che a Pistoia rappresenta anche la testimonianza un grande divulgatore di storia nelle scuole porta in giro la storia locale e promuove i valori della resistenza dell'antifascismo e quindi oggi è una giornata particolare nella quale noi celebriamo anche questo impegno a 360 gradi tutto rivolto alle giovani generazioni controllo Grazie per la visione!